È un autentico terremoto quello che ha travolto la sanità siciliana. Nella notte la procura di Palermo e i finanziari del comando provinciale del capologo siciliano hanno dato seguito all'inchiesta Sorella Sanità. L'indagine è sul giro di tangenti per accaparrarsi gli appalti pubblici. Sono cinque le persone arrestate e altrettante quelle raggiunte da una misura cautelare meno afflittiva, tra funzionari pubblici, imprenditori e professionisti, ma anche un luogotenente dei carabinieri del NAS. I reati contestati agli indagati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, riciclaggio e emissione d'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il GIP inoltre ha disposto il sequestro di oltre 700 mila euro quale prezzo del reato di corruzione. Le indagini hanno tratto origine dalle informazioni acquisite durante l'operazione Sorella Sanità, che nel 2020 ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti, sette dei quali, già condannati in primo grado, corrito abbreviato a pesanti pene detentive. Gli elementi acquisiti allo stato attuale delle indagini hanno permesso agli inquirenti di individuare un giro di affari di 700 milioni di euro. In carcere è finito Giovanni Luca Vancheri, 53 anni, di Caltanissetta, funzionario dell'ASP di Enna, indagato per corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Mentre i domiciliari finiscono Stefano Mingardi, 57 anni, Loreto Lipomi, 59 anni, nato a Palermo, Giuseppe Bonanno, 45 anni, di Caltanissetta e Cristian Catalano, classe 1982, di Palermo. Per gli altri indagati, invece, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha imposto l'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Si tratta di Luigi Iannazzo, 55 anni, di Catania, Giuseppe Gallina, 54 anni, nato a Carini, nel Palermitano. Alberto Vai, 49 anni, di Villa Arbassa, in provincia di Torino. Claudio Petronio, 67 anni, di Molteno, in provincia di Lecco. E Massimiliano D'Aleo, 47 anni, di Altavilla Milice, nel Palermitano. Per tre imprese, infine, il giudice ha stabilito il divieto temporaneo di lavorare con la pubblica amministrazione. Sono la Eltec SRL, la Vivi Sol SRL e la Tea SPA.